comunque sotto il profilo della sicurezza, della fiducia che dà la propria difesa, secondo me c'è ancora tanto da lavorare, però vorrei ricordare a tutti gli amici Granata l'estate del 2007 quando arrivò uno sconosciuto, anzi uno semi sconosciuto Matteo Sereni, sempre il secondo, terzo la Lazio, poi è diventato forse uno dei migliori portieri che il Torino abbia avuto in questi ultimi 10 anni, insomma il mio modestissimo parere, quindi servirebbe anche un portiere, ma secondo me la priorità fondamentale è la fascia sinistra, insomma cercare di andare a colmare quel gap che secondo me ci separa dalle altre squadre. Certo, dunque Giacomo Tantac, carne al fuoco, il tuo commento? Sì, guarda, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che abbiamo bisogno di rassettare la fascia sinistra, soprattutto sulle parti d'Ambrosio, questo è chiaro, è la Parisiano, dunque un buon innesto su quella fascia, nonostante sia difficile, sono Mercerara ai terzini sinistri, questo è noto, infatti si vede come già D'Ambrosio che è d'accordo un ottimo giocatore, ma non è un campione, sta venendo assalito dalle grandi squadre, proprio per il fatto che è difficile trovare un buon terzino sinistro di questi tempi, dunque dobbiamo cercare un ricambio valido su quella fascia, che faccia concorrenza appunto a Pasquale, su Masiello ci eravamo già espressi qualche settimana fa dicendo che sembra un giocatore ormai fuori dal progetto tecnico di Ventura e dunque a giugno bisognerà trovargli una soluzione, ma sì, direi che comunque sono abbastanza d'accordo con te, sull'attacco, agire e se serve agire il giusto, magari più in direzione giugno. Va bene, dunque credo che tu Stefano sia soddisfatto dalla risposta del buon Giacomo. Sì, assolutamente, assolutamente, anzi se mi permetti vorrei aggiungere soltanto una cosina proprio sul mercato in avanti, ma proprio piccola piccola. Vai Stefano! Secondo me, secondo me, vabbè, c'è stato quell'episodio poi nel Torino-Milan, una delle partite che col senno di poi rimane forse la partita persa, io reputo che quella partita lì si è stata proprio persa, nel senso che sono due punti che poi alla fine conteranno tantissimo, visto anche il cammino del Milan in questo campionato, ma proprio in quella partita si fece male Marcello Larrondo, un attaccante che viene da 4 gol in 70 partite nelle ultime 6 stagioni, insomma un attaccante che aveva voglia di riscatto, aveva voglia di riprendersi un po' la piazza, diciamo che ha avuto la sfortuna di beccarsi quell'infortuna in quella partita, i tempi di recupero dicevano due mesi, in realtà siamo a fine dicembre, insomma non si sente ancora bene parlare del suo recupero, o meglio non si sa quando potrà rientrare a pieno regime nella formazione di Ventura. Chiaramente però se bisogna, come dire, se il Torino, come ha detto Ventura negli giorni scorsi, deve tentare, deve tentare di guadagnare punti, tentare un sogno chiamato Europa, perché insomma alla fine parliamoci chiaro, fino a 4 settimane fa, un mese fa, parlevamo col Cagliari, eravamo in una posizione di classifica non tanto felice, adesso siamo in un buon momento, si può provare perché la storia del Torino merita ben altri palcoscenici, però insomma se appunto bisogna tentare di fare quel salto in più, ovviamente una punta, ma una punta che garantisca secondo me una valida alternativa a Immobile, ma soprattutto anche ad Alessio Cerci, perché insomma è un giocatore importantissimo per questo Torino, è veramente fondamentale, infatti non so se ci fate caso, ogni volta che prende palla tutti si alzano in piedi, perché tutti aspettano la sua giocata, tutti aspettano i suoi tempi, diciamo che serve anche una valida alternativa a lui, nel momento che insomma la palla è rotonda, si può fare male e chiaramente poi diventa difficile anche sostituirlo, quindi un nome valido che possa garantire una giusta alternativa sia ad Alessio Cerci che a Ciro Immobile. Certo, dunque noi ringraziamo la voce del tifoso di questa sera che è stato Stefano, ciao Stefano e grazie ancora. Grazie, grazie a voi, alla prossima. Dunque sicuramente ci ha dato un'ottima mano e ottimi spunti per pensare, perché effettivamente prima io ho detto che il reparto sta bene così com'è, però effettivamente manca un vice Cerci. Giacomo, un piccolo commento su questo spunto che ci ha dato il buon Stefano. È chiaro che il nostro reparto, così come è composto dal punto di vista tecnico, va bene, perché abbiamo Immobile che è una punta a 360, abbiamo Cerci che si descrive da solo ormai, abbiamo Larrondo che sulla carta è la nostra unica centravanti, perché lui è l'unico giocatore che è dotato di una certa stazza fisica e che ha una certa abilità di testa, dunque lui è l'unico centravanti puro che abbiamo in rosa dal punto di vista squisitamente tecnico. Abbiamo Barreto che sarebbe una seconda punta col vizietto del gol, in sé in forma, si intende, e poi c'è Maggiorini che prende la regna e fa il falegname. Esatto, dunque serve qualcuno al posto di Cerci, e qui al momento le voci sono quelle che sono, ecco, insomma, non ce n'è ancora di concrete almeno da quel punto di vista lì. Abbiamo parlato di Abel Hernandez che sulla carta, come dicevamo prima, sarebbe lui. E' una voce, insomma, non mi sembra al momento molto concreta, diciamo che secondo me sì, c'è stata sì un avvicinamento considerevole con queste ultime voci anche in estate, però secondo me ancora ci sarà da vederne delle belle, soprattutto giudicato che il presidente del Palermo e Zamparini, dunque tutto ancora si può definire ben lunghe, ben lunghe dall'essere certo. Allora, perdonatemi un attimo perché prima di parlare, come poi sarà tradizione, dell'ultima, dell'ultima, dell'ultimo argomento, e dunque dell'unico, dell'unico giocatore che al momento è coinvolto in una trattativa, certo, ovvero D'Ambrosio, io allungherei un attimo il discorso tweet perché diciamo che abbiamo delle risposte, io direi di magari invito te Giacomo a prolungare il discorso Poi via Twitter, perché diciamo che non è una ciacciara granata questo, non possiamo alimentare troppo le discussioni, dunque, Corsivi Granata risponde, vives a 33 anni, le chiavi del centrocampo in mano, è rischioso non intervenire lì, Saponara è una scommessa. Dunque brevemente poi se vuoi rispondigli direttamente su Twitter. Sì, ma ci siamo detti d'accordo già su questo perché abbiamo detto appunto che un ricambio di vive serve, perché Saponara può essere un giocatore utile se viene, è ovvio che non abbiamo un rendimento certo in Serie A di lui, però non abbiamo dunque un resoconto su quello che può fare, però abbiamo visto che carattere ce l'ha, i report da Milanello sono molto interessanti e se venisse con la giusta formula di trasferimento, diciamo, dunque che preveda una opzione per una proprietà in generale del Torino, allora potrebbe essere un acquisto interessante. Bene, mentre Barbara75tu risponde che lei non chiude nessuna porta, ma se il suo arrivo significa perdere il giocatore che dice lei, barra, aggiungo io, Alessio Cerci, allora no grazie. Beh, questa è una cosa a cui non avevamo pensato prima, un accordo per portare Giovinco in granata che poi comporta anche una cessione di Alessio Cerci? Chissà, sembra fantamercato, ma ormai brevemente Giacomo. Finisco solo il tweet due secondi, eh? Naturalmente, intanto io voglio solo dire una cosa, quello che avete appena sentito, la chiamata, non è stata in alcun modo preparata soprattutto, ma è l'esempio palese di come verranno le vostre chiamate in trasmissione. Noi non seguiamo quel cattivo, secondo me, cattiva tradizione italiana, dunque Radio 1 e comunque altre radio sportive, di far parlare gli ascoltatori per tempo 30 secondi, poi buttarli il telefono in faccia e chi si è visto si è visto. No, con noi, se chiamate, dialogate e dite la vostra profondamente. Dunque, mi raccomando, se volete, chiamate, non fatevi problemi. 3, 4, 2, 1, 6, 5, 5, 5, 70. Vai Giacomo. Sì, invece sul tweet che hai appena citato, eh, in quel caso non sarei tanto d'accordo neanche io, perché Cerci non lo scambiamo con nessuno. Giovinco, ricordiamo, è un giocatore diverso da Cerci, che può ispirare comunque sia la manovra offensiva, però non è un'ala. Ci ha provato qualcuno a farlo giocare ala con pessimi risultati. Dunque, non ha quella capacità di attaccare la profondità e la corsa di Cerci. Quelle sono caratteristiche consolidate di un esterno e Giovinco non ce le ha. Giovinco è un giocatore bravo nello stretto, nel dribbling. E' chiaro che sarebbe solo una manovra a favore della Juventus, se dare, diciamo, Cerci in cambio di Giovinco. E questo è fuori da ogni discussione. Certo. Noi dobbiamo potenziare il nostro organico e dunque, in tal caso, acquistare Abel Hernández, o comunque sia giocatori validi che aggiungano qualità. Noi in questo momento stiamo cercando di toglierci l'etichetta che ha contraddistinto negli ultimi 15 anni di squadra, diciamo, o meglio, negli ultimi 15 anni, perché ormai sono passati 20 anni. Sì, il tempo passa, Giacomo, il tempo passa. Esatto. Il tempo passa, ormai sono 20 anni dalle ultime buone stagioni con Mondo in panca. Quindi dobbiamo schiodarci d'adosso questa etichetta di squadra salvezza, perché noi sappiamo fare di meglio. L'abbiamo dimostrato quest'anno confermando dei giocatori validi. E dunque bisogna ogni anno aggiungere dei tasselli. Ma dei tasselli si aggiungono, non si tolgono. E se qualcuno dovesse mai partire, va sostituito con i proventi, con qualcuno ancora più forte. Di certo non cerci per Giovinco. Certo. Dunque, ora parliamo, sempre non troppo dilungandosi, della questione d'Ambrosio. Perché al momento la certezza della sua cessione c'è, per vari motivi, che non è stato neanche convocato nell'ultima partita, è solo uno dei tanti sentori. Però al momento, soprattutto per quanto riguarda, citando il buon Corriere Granata, lì esuberi Milan, la questione ruota intorno all'accessione di Danilo D'Ambrosio. Milan, Roma, Inter, Juve, Canicattì, Siviglia, eccetera eccetera. Barcellona, Pozzo di Gotto. Barcellona, Pozzo di Gotto. Ma D'Ambrosio se ne andrà, dal Torino. D'Ambrosio direi che a gennaio si irà la maglia di un'altra squadra. Questo è sotto gli occhi di tutti, a meno di strani crisi di coscienza di Capodanno, che non credo avverranno. A Capodanno penso che ci siano tutto meno che crisi di coscienza. Esatto, semmai crisi di ubriachezza, ma non di coscienza. No, scherzi a parte. Ecco, D'Ambrosio credo proprio che partirà. Si tratta ora di trovare il giusto corrispettivo, diciamo di riuscire a cavarne il più possibile da questa cessione. Dunque, se sarà Milan, dovremo ricavare una contropartita tecnica che sia gradita a noi e con una formula di trasferimento gradita a noi. Perché il Milan non ha intenzione di spendere soldi, la Roma aveva intenzione di dare qualche soldino, anche se poi ha subito ritirato il braccino e ha pensato di dare la metà di Niccolò Pez, ovviamente non la propria metà, riscattarlo dall'Udinese e girare la metà al Toro. Quindi sostanzialmente sono queste le manovre di mercato che potrebbero capitare. Juventus e Inter in questo momento sono un po' dietro. È chiaro che l'Inter cerca un esterno, ma si sta più rivolgendo al mercato estero. Dunque non dovremmo vedere grandi movimenti in questo senso. Oltretutto Conte della Juve è particolarmente ammaliato da D'Armian più che da D'Ambrosio, che è decisamente più dirigente. Dunque lasciamo queste questioni come un interrogativo. Però sulla eventuale partenza di D'Ambrosio al Milan o alla Roma si tratta solo ormai di capire quanto ci possono dare. Niente soldi, questa è una certezza. Almeno una contropartita valida. E ne abbiamo discusso ampiamente prima su chi possa essere. La suggestione Sharawi direi che è sparita, dato che si è operato oggi e starà fuori tre mesi. Dunque direi proprio che se c'era una minima possibilità, questa è sparita. Bene, dunque chiudiamo questa ampissima parte di calcio mercato e andremo quasi in chiusura. Naturalmente ricordiamo che questo è un sucche Granata rappresentato dall'attualità Granata e dunque c'è spazio anche per l'attualità Granata. Dunque anche le notizie di contorno. E ce ne parla Chiara Leati. Ciao Chiara! Buonasera a tutti e grazie. 70 angeli in un unico cielo, Esele Superga, tragedie sorelle. E questo è il nome della mostra che partirà a gennaio per iniziativa del Museo del Grande Torino e della leggenda Granata e che sarà allestita in collaborazione con Sale della Memoria Esele. A comunicarle è stato Domenico Beccaria sul suo profilo Facebook. Questo il titolo della mostra, si legge sul profilo, che vuole innanzitutto fare riflettere sulla tragedia della morte, ricordare il rispetto per chi è caduto e obbligato.